Anche se il tempo è un po' grigio ed ormai scesa la notte, per noi di Cucurano sta per accendersi una luce. Nonostante le difficoltà incontrate e gli imprevisti che ci hanno impedito di completare i lavori programmati, questa sera possiamo inaugurare la Sala della Fraternità. Ha esordito così Don Marzio Berloni, parroco di Cucurano, alla cerimonia di inaugurazione della Sala della Fraternità. Quello che possiamo già ammirare e utilizzare, a proseguito Don Marzio, è stato possibile grazie alla sensibilità e generosità di alcune persone, famiglie e denti, che vogliamo fin da ora ringraziare. Primo fra tutti Don Attilio, che ha fortemente desiderato e sostenuto con i suoi risparmi di una vita quest'opera, il Vescovo, che fin dall'inizio ci ha incoraggiati non solo con le parole, ma anche con un generoso contributo, il Presidente e il Consiglio della Banca di Credito Cooperativo di Fano, la quale ha avuto le sue origini proprio nella nostra parrocchia e che costantemente ci sostiene, sia attraverso contributi, sia attraverso condizioni favorevoli sui prestiti, che ci sono necessari e le tante persone, famiglie e ditte, che in diverse forme, con contributi sostanziosi o piccole e costanti offerte, ci hanno permesso di far fronte alle spese già affrontate e alla stipula del mutuo necessario per arrivare all'utilizzo, anche se parziale, della nuova struttura, al progettista Lorenzo Urani e alle ditte che hanno realizzato i lavori con passione e maestria. Durante l'inaugurazione Don Marzio ha sottolineato come il Salone permetterà alla comunità di mettersi da subito in sintonia con il progetto pastorale per il nuovo anno che il Vescovo ha presentato nell'ultima Assemblea Diocesana del 19 settembre, dal titolo Il ruolo delle relazioni nell'evangelizzazione, perché la chiesa che vive in Fano Fossombrone Cagli-Pergola sia sempre famiglia di famiglie e comunità accogliente missionaria. Questa sala della fraternità, concluso Don Marzio, sicuramente ci potrà essere preziosa, sia per momenti di formazione che di incontro, di relazioni, di fraternità, perché la nostra parrocchia diventi sempre più famiglia di famiglie. Non resta che utilizzarla quanto più possibile da parte dell'oratorio, dei catechisti, dei giovani, delle famiglie e del paese. La parola è poi passata al Vescovo Armando, il quale ha ribadito l'importanza di questi luoghi per la comunità e la necessità di far crescere sempre più il laicato. Oggi come oggi una parrocchia si struttura con la chiesa, ma anche con sale come questa, dove la gente si incontra, può stare insieme e creare buone relazioni. Intervenuto all'inaugurazione anche il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha sottolineato come la parrocchia sia un punto di riferimento importante. In una parrocchia messa in evidenza serio, ognuno di noi trova sempre una porta aperta e luoghi come questa sala sono importanti per tutti noi e danno un valore aggiunto all'intera città. A tagliare il nastro visibilmente emozionato è stato lo storico Don Attilio Rivelli, che ha voluto fortemente la realizzazione di quest'opera per la sua cucurano. Grazie. Grazie.